Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. Benvenuti a Esplorare i confini. Oggi parleremo di Pompei, città che ha sempre suscitato nel pubblico un forte interesse proprio per la situazione di rinvenimento in cui si trovava. Pompei, infatti, è morta nel giro di poche ore, distrutta dalla eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., per cui la vita si è fermata in un attimo, conservando quindi i resti rimasti integri, diciamo, a parte i crolli dovuti all'eruzione stessa, ma conservanti ancora quelle che erano le tracce di vita quotidiana, a differenza di altri siti archeologici, dove invece la decadenza è stata molto più lenta e quindi situazioni meno interessanti, potremmo dire, perlomeno dal punto di vista di curiosità di vita quotidiana rispetto a Pompei. La conversazione di oggi era stata preparata nel febbraio scorso per un viaggio che si sarebbe dovuto compiere nella tarda estate o nell'autunno a Pompei stessa. Era preparatoria, propedeutica, appunto, a questo viaggio, che consisteva soprattutto nella visita agli scavi, per cui il taglio di questa conferenza, di questa conversazione, è soprattutto rivolto, l'interesse rivolto, ai siti monumentali e alle realtà archeologiche, piuttosto che alla pittura e ai mosaici, che richiederebbero, invece, tutto un discorso a parte. Quindi, prevalentemente, seguiremo un percorso attraverso le vie di Pompei, le vie principali di Pompei, visitando i luoghi più importanti, civili, religiosi, commerciali e anche architetture domestiche. Pompei, in questa prima immagine, vediamo una ricostruzione della pianta archeologica di Pompei, con indicati i vari siti archeologici. Diciamo, innanzitutto, che Pompei sorge su un pianoro di origine lavica, creatosi, formatosi, in seguito ad una eruzione di epoca preistorica. La città è circondata da mura, sulle quali si aprono diverse porte, sette per la precisione, ecco questa è un'altra pianta ricostruita, sette porte in direzione delle vie che uscivano dalla città in direzione dei principali centri, delle principali città sul territorio. Le mura, appunto, seguono lungo il ciglio tattico del pianoro, che rappresenta un andamento non regolare, per cui la pianta stessa della città, appunto, assume questo aspetto irregolare. All'interno delle mura vediamo orientamenti diversi delle varie regioni, cioè delle varie aree che comprendono, appunto, il tessuto urbano. Questa differenza di orientamenti è dettata dal fatto che esisteva, esiste un nucleo originario più antico, costituito da questa zona, nucleo originario più antico, costituito da quest'area, e prolungamento dell'estensione del tessuto urbano in epoche, diciamo, successive, o in momenti successivi rispetto a questo nucleo primitivo. E quindi la città presenta una pianta regolamentata, infatti attorno a questo nucleo originario partono delle direttrici in senso est-ovest, nord-sud e est-ovest, delle direttrici che si intersecano poi ad angolo retto determinando, appunto, isolati, allungati e differenti, appunto, da zona a zona. In particolare vediamo come ci siano stati due assi principali in senso nord-sud, cioè nord-sud, via dell'abbondanza e quest'altra via, quest'altro decumano principale, ed assi in senso ex-ovest che intersecano questi principali. I primi insediamenti su Pompei risalgono già ad epoca antica, ma l'occupazione documentata storicamente è di periodo osco. Quindi il primo nucleo fu, diciamo, occupato da popolazioni, da questa popolazione italica nel corso del VI secolo avanti Cristo. Agli oschi succedono poi i sanniti a partire dalla fine del V, inizi IV secolo avanti Cristo, fino, e arriviamo fino all'occupazione romana, più che occupazione in flusso romano, perché la vera e propria fondazione della colonia avviene sotto Silla, quindi nel I secolo avanti Cristo. E veniamo all'ingresso della città. Porta Marina, avevo detto che le mura sono intersecate da più porte in direzione delle principali città presenti nel territorio. Porta Marina è la porta, ovviamente, che affaccia sul mare, sul golfo che è da questa parte e conduce direttamente all'area del foro. L'area del foro. Il foro si trova nelle propaggini meridionali del pianoro ed è costituito da una piazza rettangolare circondata da portici su tre lati. Era il centro della vita religiosa, civile e commerciale. Infatti sul foro si affacciano i principali monumenti della città, riferibili a queste attività. Gravita sul foro, nella situazione dell'ultimo periodo di vita, il Tempio di Apollo, che è un tempio le cui origini risalgono ad epoca antica, quasi alle origini della città. non certo in questa veste, ma come presenza su questa parte del foro. Il Tempio di Apollo appunto presenta un orientamento diverso da quello del lato lungo del foro, proprio perché nelle sue prime fasi gravitava sull'area forense, che era però ridotta, rispetto, ridotte con un orientamento leggermente diverso, rispetto a quella attuale. Il Tempio, indicato con la lettera A, è circondato da un colonnato e presenta un alto podio su cui si inserisce la cella. È un classico, tipico, Tempio romano. Infatti la caratteristica dei Templi romani è quella di sorgere su alti podi che costituiscono, con la gradinata infacciata, a suggerire la frontalità, a valorizzare la frontalità dell'ingresso, a differenza dei templi greci che generalmente so che quasi sempre si sono peritteri. Il Tempio presenta di fronte alla scalinata un altare e veniamo ora al foro nell'ultima appunto fase di vita. Il foro è leggermente sopraelevato sugli altri lati della piazza. Presenta una pianta estremamente allungata e vi si affacciano gli edifici più importanti che sono sul lato occidentale la basilica, abbiamo visto il Tempio di Apollo ma con le peculiarità che abbiamo già detto, poi la mensa ponderaria, questa parte qui, un orreum, cioè un magazzino e poi delle latrine. A sud abbiamo edifici municipali mentre nel lato orientale tutta una serie di edifici che adesso verremo a descrivere. Il foro presenta delle caratteristiche diverse da quelle che sono le regole vitruviane codificate veramente alcuni decenni, anzi secoli dopo. Infatti il foro risale appunto al secondo avanti Cristo e presenta appunto questa forma estremamente allungata, mentre secondo le regole vitruviane dovrebbe essere di un rapporto di due a tre. Veniamo a descrivere i vari edifici che si affacciano su questa piazza. Innanzitutto la basilica. La basilica che si trova all'estremità meridionale del lato occidentale. La basilica aveva delle funzioni diverse da quella che poi sarà la basilica cristiana, totalmente diverse. infatti la basilica aveva funzioni civili, commerciali e anche giuridiche. La basilica presenta una pianta estremamente allungata, anche questa, ed è circondata su tutti i lati da un colonnato che la divide in tre navate. sul lato di fondo è il tribunal, cioè il luogo dove sedevano i magistrati. L'ingresso avveniva dalla parte del foro ed era seguito da un calcidicum, cioè da una specie di pronao. La basilica, questa di Pompei, è una delle più antiche del mondo romano e presenta delle caratteristiche diverse da quelle che saranno poi gli impianti basilicali canonici che generalmente si affacciano sul foro, sul lato lungo. Quindi è una delle testimonianze più antiche di basiliche romane ed è molto differente anche da quella che Vitruvio stesso dice di avere costruito a Fano che presenta invece l'ingresso, dovrebbe presentare su uno dei lati lunghi. Continuando la descrizione degli edifici, abbiamo detto nell'ambiente indicato con la lettera D abbiamo è da identificarsi un orreum cioè un magazzino e poi qui la mensa ponderaria cioè il luogo dove venivano registrati appunto i pesi e poi ancora nella zona al di sopra dell'orreum bagni pubblici. Il lato lungo il lato corto meridionale del foro è occupato dagli edifici amministrativi edifici amministrativi che sono costituiti da tre ambienti di cui due laterali absidati e indicati in pianta con la lettera H normalmente su questo lato del foro di fronte al tempio di Zeus che domina invece la parte opposta del foro si trovava nei fori canonici la basilica nella maggior parte dei fori la basilica che come abbiamo visto in questo caso invece è spostata lateralmente e mentre gli edifici municipali vengono a insediarsi lungo questo lato del foro sono i meglio conservati nell'ambito delle architetture pompeiane in quanto subito dopo il terremoto del 62 che devastò completamente l'intera città furono i primi ad essere restaurati in quanto appunto una città che vuole risorgere che vuole rivivere deve avere funzionanti gli edifici appunto amministrativi e precisamente in queste tre aule venivano queste tre aule erano deputate l'una la più orientale alla sede dei Duoviri che era la più alta magistratura del municipio della Colonia anzi al centro la Curria e nella parte l'edificio più occidentale destinato alla sede dei Decurioni altra importante magistratura di Pompei venendo al lato orientale abbiamo dapprima la sede del comizium indicato con la lettera G il comizio era il luogo dove avvenivano le elezioni municipali le elezioni municipali e originariamente era un recinto poi costruito in muratura e aveva numerosi ingressi sia sul lato del foro sia sul lato settentrionare per l'afflusso e il deflusso delle persone presenta sul lato sud una tribuna che serviva ai magistrati che regolavano l'andamento delle elezioni segue appunto l'edificio questo grande edificio che è appunto l'edificio di Eomachia che aveva una funzione sia commerciale e industriale sia una funzione in un certo senso potremmo dire religiosa in quanto vi sono statue che documentano appunto il culto verso la dinastia la dinastia imperiale Eomachia era era una sacerdotessa di Venere ma soprattutto era la protettrice dei fullones indicato con la lettera F i fullones erano una corporazione una delle più grosse corporazioni di Pompei di costruttori di stessuti di lavandai anche e di tintori e avevano questa sede sul foro ciò denuncia appunto l'importanza per avere appunto ottenuto la presenza della loro organizzazione sul foro l'importanza di questa corporazione Eomachia era la protettrice di questi fullones ed era una sacerdotessa di Venere apparteneva ad una famiglia evidentemente molto ricca per poter costruire e influente anche per poter costruire una costruzione del genere sul foro questo edificio si affaccia sul foro con una facciata estremamente articolata costituita da catini absidali come si può vedere quindi nicchie potremmo dire catini più che absidali all'esterno e nicchie quadrate all'interno l'interno dell'edificio era costituito da una vasta area scoperta centrale circondata da portici e da un abside di fronte all'ingresso principale dove veniva costodita la statua della Concordia Augusta che personificava nelle fattezze del volto soprattutto Livia quindi un membro della famiglia infernale era identificata la Concordia Augusta con la personificazione di Livia e altre statue riferentisi alla famiglia imperiale denunciano che questo ambiente che questa area era appunto aveva anche lo scopo di diciamo devozione dei confronti della famiglia imperiale stessa segue ancora il tempio di Vespasiano che non è allineato con la facciata dell'edificio di Omachia ma è più avanzato rispetto alla facciata di Omachia ed è il tempio di Vespasiano con in fondo la cella segue il Larario cioè un edificio dedicato ai Lari il santuario dei Lari cioè le divinità protettrici in questo caso della città essendo l'edificio sul foro i Lari erano divinità tutelatrici presenti anche in ambito privato come vedremo nelle Domus ed erano appunto i protettori in quel caso della famiglia in questo caso sul foro delle divinità protettrici della città da ultimo su questo lato si affaccia il macellum indicato con la lettera L il macellum era il mercato coperto generalmente questo genere di edifici si attestava nelle vicinanze del foro o più raramente sul foro stesso come in questo caso è costituito era il mercato ripeto coperto ed era costituito da un'area centrale caratteristica è la tolos cioè questo ambiente circolare munito di colonne al centro che è presente nella maggior parte dei mercati romani penso all'eptismania ma anche in tanti altri è un caratteristico appunto di questo tipo di strutture che si tratti di di un mercato lo indicano sia gli apprestamenti presenti quindi serie di botteghe serie di botteghe di celle interne ma soprattutto i resti gli avanzi di lische di pesce e di cereali di altre granaglie che venivano vendute appunto all'interno di questo mercato ritrovate durante lo scavo sul lato opposto al lato meridionale con la presenza degli edifici amministrativi sopra accennati è il Capitolium il Capitolium quasi sempre presente nei fori romani Capitolium che originariamente però doveva essere un tempio dedicato semplicemente a Giove poi trasformato in Capitolium costruendo questa serie questa doppia serie sui lati lunghi di colonne che dividevano la cella in tre navate sullo sfondo le celle destinate alla triade capitolina l'ingresso al Capitolium avveniva anche qui su di un altro un alto podio vuoto all'interno l'area del foro l'area del foro il Capitolium sullo sfondo e ai lati questo abbiamo dimenticato due archi onorari che facevano da sfondo appunto a questo lato su questo lato è via dell'abbondanza che prosegue alle spalle poi del Capitolium sulla parte opposta abbiamo detto i tre edifici amministrativi quindi Duoviri De Curioni Curia e al centro tutta una serie di basamenti dove si trovava eret che erano che supportavano che erano da supporto a statue onorarie presenti nel foro sul lato occidentale vediamo il Tempio di Apollo il Tempio di Apollo preceduto da questa ampia scalinata e su podio preceduto dalla scalinata e di fronte l'Ara lato opposto abbiamo il Comizio Eumachia poi il Tempio di Vespasiano l'Arario e da ultimo il Macellum questo è la veduta frontale sul lato corto settentrionale del Tempio di Zeus il Tempio di Zeus che è stato ritrovato vedete in bianco sono indicati i restauri ma trovato appunto in fase di crollo e i due archi onorari dicevano che fungevano da quinta a questo lato della strada il Tempio particolare del Tempio di Apollo che avevamo visto con l'ampia gradinata che conduceva al podio altro particolare del Tempio di Apollo visto da un altro lato la basilica ecco la basilica l'ingresso il calcidicum cioè il portico anteriore i colonnati con la divisione in più navate e il tribunal sullo sfondo eubachia cioè il colonnato interiore e la zona interna lo spazio verde interno in questo spazio verde venivano anche era utilizzato per la vendita dei tessuti mentre gli spazi coperti laterali venivano utilizzati per il deposito delle stoffe macellum e qui vediamo la tolos cioè questa struttura circolare interna che è caratteristica appunto di tutti i macelli e qui pitture perché poi questi edifici ripeto erano decorati con pitture in questo caso del macellum un particolare di una pittura con Penelope che riconosce il riconoscimento da parte di Penelope di Penelope di Ulisse riconosce Ulisse a fianco vedete la via dell'abbondanza che è una delle strade principali della città che corre dietro l'arco onorario orientale a fianco che riparca continua appunto dietro l'arco orientale della parte settentrionale del foro la via era lastricata e ripeto era una delle strade più importanti della città qui prosegue il percorso percorso che giunge all'area del foro triangolare e all'area dei teatri anche questa è un'area monumentale molto importante a Pompei l'area del foro triangolare ecco questa è la pianta di tutto il complesso che si presenta perlomeno nella concezione unitario il foro triangolare è questa questa struttura che si trova a fianco del complesso dei teatri il foro triangolare è costituito da un doppio porticato con accesso da eleganti propilei che si trovano su uno dei lati corti sul lato corto di questo triangolo porticati che circondano su due lati appunto quest'area triangolare che affacciava sulla pianura sottostante sul mare all'interno uno dei più antichi templi di Pompei il cosiddetto Tempio Dorico di cui restano pochi resti appunto ma che risale addirittura al VI secolo avanti Cristo come denunciano alcuni resti del colonnato scarsi resti del colonnato dei capitelli del colonnato che risalgono appunto a quel periodo di fronte alle strutture del Tempio oggi veramente quasi faticenti abbiamo un edificio rettangolare un edificio un piccola struttura rettangolare probabilmente era un eroon dedicato all'eroe fondatore della città molto spesso nelle piazze soprattutto greche questo era l'uso greco soprattutto greche soprattutto delle colonie la tomba o l'eroe del fondatore era l'unica struttura privata presente su di uno spazio pubblico o sacro come in questo caso a fianco dunque dal porticato vi era accesso da un lato alla palestra sanitica questa zona dei teatri costituisce un complesso da leggere quasi in maniera unitaria ed è la parte dove maggiormente si assiste all'influsso ellenistico sulle queste architetture abbiamo il grande teatro indicato con la lettera 2 teatro alla maniera greca appunto infatti la cavia si appoggia su di un pendio proprio come i teatri greci a differenza dei teatri romani che generalmente venivano la cavia veniva costruita all'interno la cavia è divisa da corridoi annulari diciamo che la dividevano orizzontalmente in Imea media e summa cavia e poi altri corridoi radiali altri corridoi che la dividevano invece nell'altro senso in vari settori attraverso questi corridoi appunto questi passaggi che le kerkides appunto che la dividevano in diversi settori l'ingresso al teala struttura avveniva attraverso le parodoi cioè questi passaggi che conducevano all'orchestra orchestra semicircolare di impianto semicircolare di fronte all'orchestra la scena la scena che era concepita come un come un facciata principesca molto di un palazzo principesco molto mossa con diverse nicchie sia absidate e comunque molto mossa e alle spalle della struttura di questa struttura teatrale è il quadriportico originariamente concepito in funzione del teatro per ospitare gli spettatori che si recavano al teatro e poi trasformato nella caserma dei gladiatori caserma dei gladiatori che diciamo caserma dei gladiatori che si presenta con un'area centrale libera mentre strutture semplici stanze si disponevano lungo i lati della struttura ed erano le celle potremmo dire dove alloggiavano le famiglie dei gladiatori a un piano superiore era sistemata l'abitazione dell'anista cioè di colui che sovrintendeva alle famiglie di questi gladiatori famiglia nel senso di corporazione non nel senso di famiglia con gruppo familiare poi a fianco a teatro grande il teatro piccolo teatro piccolo in questo caso coperto che è da riconoscersi in un odeion gli odeia erano delle teatri più piccoli ma che servivano per la rappresentazione di spettacoli musicali o di mimi quindi avevano funzioni diverse rispetto al teatro grande la palestra sanitica che era una palestra dove si allenavano i giovani ma molto piccola come dimensioni rispetto alle palestre appunto più grandi in altre aree della città probabilmente serviva anche come sede di corporazioni e a fianco il tempio di Iside da ultimo il tempio di Iside era un tempio abbastanza piccolo costituito da un porticato e all'interno del quale era disposta una secella a pianta allungata gli Isei erano dei templi particolari dedicati al culto di Iside che era una divinità di origine egiziana entrata poi anche nel pantheon assimilata poi anche nel pantheon greco e trasferita poi anche il culto trasferito poi anche in epoca romana gli Isei non erano diffusissimi perché il culto appunto non era diffusissimo infatti ne sono stati trovati relativamente pochi e uno di più importanti è proprio questo di Pompei da notare la vicinanza della zona del teatro alle strutture sacre proprio per sotto come spesso avviene anche nei grandi santuari laziali per esempio eccetera ed altrove proprio per sottolineare la sacralità degli spettacoli che si svolgevano nel teatro e continua il percorso attraverso appunto queste strade per raggiungere per raggiungere le terme stabiane le terme erano un altro uno degli edifici pubblici molto frequentati finora abbiamo visto edifici civili foro foro principale foro poi edifici religiosi edifici civili pubblici religiosi nel foro poi foro triangolare con la prevalenza appunto di edifici sacri e poi ora invece ci avviamo a descrivere edifici pubblici le terme le terme erano uno degli edifici pubblici più amati dei romani non c'è città appunto che non abbia un impianto termale e queste che sto per descrivere sono le terme stabiane che sono le terme più antiche della città dunque l'accesso a questo complesso avviene attraverso il corridoio indicato con la lettera 1 che immette in questo ampio spazio centrale circondato su tre lati da un colonnato queste termine questa struttura si può suddividere in tre zone una zona occidentale una zona settentrionale e una zona orientale sulla zona occidentale si affaccia una grande struttura una grande aula che contiene una vera e propria piscina una natazio che gravita sullo spazio centrale a fianco gli ambianchi che l'affiancano 5 e 7 sono da identificarsi con degli spogliatoi all'esterno invece vediamo una serie di botteghe che come spesso capita che si aprono sulla via esterna alla struttura sulla via antistante esterna alla struttura nella parte superiore abbiamo una latrina e bagni privati mentre la zona termale vera e propria è costituita da questo lato orientale che ospita gli impianti termali veri e propri divisi tra impianti destinati agli uomini e impianti destinate alle donne l'ingresso all'impianto destinato agli uomini avveniva attraverso questo varco che si apriva sul cortile centrale sulla corte centrale attraverso una stanza si raggiungeva il lapoditerium cioè la stanza dove si spogliava ci si spogliava e poi il frigidarium cioè la stanza destinata ai bagni freddi il tepidarium la stanza destinata ai bagni tepidi e il calidarium 23 il tepidarium 21 il calidarium questa successione di strutture di stanze è diciamo sempre presente partendo dallo sporatoio frigitarium tepidarium e calidarium sempre presente negli impianti termali di questa successione quindi dallo spalatoio frigidarium poi tepidarium e calidarium erano riscaldati erano ambienti riscaldati riscaldati da prefurnia cioè impianti di riscaldamento indicati nel numero 20 di questa pianta di questa pianta prefurnia cioè delle forni specie che producevano aria calda che veniva convogliata nelle stanze riscaldate attraverso i forni che producevano il calore la cui aria veniva trasferita in queste stanze attraverso le suspensure cioè delle strutture presenti sotto il pavimento che permettevano la circolazione negli ambienti di aria calda l'impianto femminile invece era sempre sullo stesso lato nella parte superiore e anche qui attraverso questo ingresso ma anche attraverso un ingresso assistiamo alla successione dei soliti ambienti apoditerium frigidarium tepidarium e calidarium il prefurnia cioè gli impianti di riscaldamento evidentemente servivano ad entrambi le strutture termali che peraltro tra di loro non erano comunicanti e passiamo oltre dunque abbiamo visto impianti termali vediamo impianti commerciali ora vediamo in questo caso la riproduzione la foto di un termopolium che cos'erano i termopolia i termopolia erano dei luoghi di ristoro specie di bar potremmo dire dell'antichità e che dove venivano servite bevande e anche cibi bevande calde o fredde e cibi contenuti in queste giare che erano diciamo in questo caso inserite su questo bancone che conservavano appunto bevande ed errate alimentari che poi venivano offerte agli ospiti in fondo a questo termopolium questi termopolia spesso potevano avere degli spazi verdi alle spalle oppure potevano essere inseriti nell'abitazione stessa del conduttore di queste strutture in questo caso sullo sfondo è visibile il larario parlavo prima di cos'era il larario lo vedremo poi ancora meglio nelle strutture domestiche il larario era il luogo dove venivano onorati i protettori della famiglia gli antenati della famiglia qui abbiamo una panetteria qui la riproduzione di una panetteria le macine all'esterno dove veniva macinato il grano queste strutture erano costituite da due corpi uno sovrastante dove veniva inserito il grano che girando macinava il grano che veniva poi sotto forma di farina raccolto all'esterno da contenitori e il forno e sullo sfondo il forno quindi abbiamo visto termini impianti commerciali industriali il forno dove veniva cotto il pane ancora impianti industriali questa è la ricostruzione di una fullonica cioè un impianto industriale dove venivano lavorati i tessuti che venivano lavati trattati tinti attraverso diverse operazioni che avvenivano all'interno appunto di queste strutture munite di vasche di asciugatoi e di banchi appunto per trattare il tessuto ma trattati anche con urina animale per fissare i tessuti ed era molto richiesta sia umana che animale e serviva appunto per indurire appunto questi tessuti che poi venivano lavati trattati con acqua e soda venivano comunque e subivano diverse operazioni prima della stesura finale un particolare di una vasca o anche queste strutture industriali vedete avevano pareti dipinte ancora ancora meglio lo si vede in queste sempre una delle vasche presenti all'interno di questa struttura o un'altra struttura un'altro ambiente molto frequentato soprattutto dalle popolazioni dal cito più basso della popolazione erano i lupanari i lupanari erano gli antichi bordelli antiche case di tolleranza che si trovavano generalmente lungo gli incroci delle strade soprattutto secondarie ed erano costituiti essenzialmente da un unico ambiente a piano terra o al piano superiore munito di un giaciglio in muratura generalmente con un materasso ed erano decorati con pitture riferentisi all'attività svolte all'interno cioè la prostituzione svolta all'interno di questi ambienti ecco la prostituzione praticata in questi lupanari è ben diversa quindi la prostituzione mercenaria è ben diversa dalla prostituzione sacra che invece veniva praticata in veri e propri santuari in veri e propri templi penso ad erice il tempio di vera ricina dove appunto si praticava questa attività che aveva un valore sacrale ed era diciamo praticata da vergini da vergini no da donne libere a differenza di lupanari dove invece venivano usate donne generalmente di bassa estrazione schiave o prima di iniziare il discorso sul domus che rappresentano una grande quantità di testimonianze nell'ambito di Pompei solo due parole per indicare gli stili che venivano che decoravano le abitazioni infatti sappiamo che quasi tutte ma sicuramente tutte le dimore signorili le dimore signorili Pompeiane presentano alle pareti delle decorazioni decorazioni che seguono diversi stili il primo stile il più antico è quello ad imitazione è quello ad imitazione del bugnato degli zoccoli e del bugnato delle murature realizzato con colori diversi secondo stile invece non si limita ad imitare soltanto le zoccolature e il bugnato delle pareti ma si arricchisce anche di prospettive illusionistiche però mediante composizioni architettoniche il terzo stile perde completamente il contatto con la realtà architettonica e le architetture diventano elemento decorativo e si aprono all'interno delle pareti delle pannelli figurati e il quarto stile ancora dove la 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 struttura architettonica diventa puro elemento ornamentale senza non c'è più distinzione tra elementi architettonici ed elementi figurati dunque iniziamo con la casa più antica la casa del chirurgo la casa di quarto secolo avanti cristo quindi di piena epoca sannitica e rappresenta il prototipo della casa romana di tipo pompeiano che è ben diversa dalla casa romana di tipo ostiense che ha ben altre caratteristiche la casa pompeiana è una struttura chiusa all'esterno che gravita e tutti gli ambienti gravitano all'interno sull'atrio dall'ingresso avviene attraverso questo ambiente che immette nell'atrio che aveva la copertura a cielo aperto questa copertura a cielo aperto permetteva sia di dar luce agli ambienti interni che erano sull'atrio affacciavano il cubicula le ali e sullo sfondo il triclinium dicevo l'atrio il tetto all'aperto permetteva la caduta dell'acqua nell'impluvium cioè in una vasca al centro dell'atrio questa vasca era fondamentale la raccolta dell'acqua soprattutto nelle epoche più antiche era fondamentale infatti il grosso problema di Pompei è stato quello di della mancanza di acqua o per il problema della scarsità di acqua fino ad epoca augustea quando fu costruito il primo acquedotto scarsità di acqua perché l'acqua doveva essere cercata al di sotto della crosta di lava diciamo del spessore di lava le sorgenti si trovavano al di sotto per cui venivano scavati dei pozzi pozzi che servivano a completamento dell'acqua ricavata negli impluvia servivano a fornire sia le case private sia all'esterno gli orti le campagne quindi questo è la tipica l'impianto tipico della casa dormana alle spalle qui l'ortus che poi venne in una fase successiva della casa anche questo edificato strumenti chirurgici trovati nella casa del chirurgo appunto che si riferiscono all'attività del titolare della casa questo è un affresco se quella era la casa più antica e anche la struttura più semplice questa della casa del fauno è sicuramente la pianta una delle piante più ricche di questa casa che è una delle più grandi se non la più grande finora riconosciuta trovata a Pompei rispetto alla casa precedente abbiamo un arricchimento di strutture soprattutto per il flusso ellenistico soprattutto con la presenza di vaste aree verdi cioè dei peristili che arricchiscono appunto la struttura della casa ma tornando alla casa vediamo gli ingressi in questo caso la casa è munita addirittura di doppi atri e di doppi peristili la casa occupava un'intera isola ed è costruita diciamo sopra strutture preesistenti di case più bodeste sugli atri ovviamente affacciavano i soliti edifici quindi cubicula edicole eccetera il tablidum di fronte all'ingresso e poi alle spalle il peristilio il peristilio che era un'aggiunta di tradizione ellenistica presente appunto in queste case più ricche in questo caso anche il peristilio viene reduplicato abbiamo la presenza qui anche di terme private come in questo caso di esedre che si affacciano appunto sui peristili sui peristili e altre stanze di rappresentanza sempre che si affacciano sui peristili e poi anche di ambienti ovviamente che servivano alla vita come cucine latrine che servivano alla vita della famiglia o la casa del fauno prende il nome dal satiro danzante che era posto all'ingresso della casa e qui il mosaico di Alessandro dunque ho detto prima all'inizio che ho trascurato in linea di massima pitture e mosaici perché richiederebbero un discorso a parte ma non posso tralasciare questo mosaico il famoso mosaico di Alessandro che è conservato come la maggior parte delle pitture e dei mosaici pompeiani nel museo di Napoli nel museo archeologico di Napoli perché una delle riproduzioni uno dei mosaici più belli pensate che sono state necessarie più di un milione di tessere piccolissime che riescono a riprodurre fedelmente anche le sfumature di tutte le immagini è la riproduzione questo mosaico di un quadro famoso di ellenistico raffigurante la battaglia tra Alessandro e Dario il re dei persiani anche i passaggi nirotici erano una delle caratteristiche di tradizione ellenistica queste scene nilotiche appunto come anche questa raffigurazione di pesci sembra diverso l'impianto della casa è un'altra domus molto importante la casa di Melandro anche questa domus diciamo presenta gli stessi ambienti canonici ingresso atrio ingresso atrio e di cubicula tablinum e alle spalle il peristiglio e altre strutture annesse che so che gravitano sul peristiglio che gravitano sulle strutture di rappresentanza mentre in un'altra ala della casa abbiamo le strutture di servizio ripeto qui vediamo un'articolazione diversa delle varie parti che compongono la casa ma il principio è sempre lo stesso questa casa molto ricca e qui sono stati trovati proprio dei tesori al momento della scoperta degli tesori di argenteria molto molto importanti prende il nome dalla rappresentazione di Melandro questo è l'interno l'impluvium che vi dicevo l'impluvium questa è un'altra scena con pesci quindi marittima marittima particolare della stessa scena e paesaggio dunque i pigmei altro paesaggio molto di moda in epoca leninistica e molto rappresentato in queste case di una certa di una grande importanza e questo è il freddafresco di Melandro che dà il nome alla casa o questa è la casa degli amorini dorati queste sono strutture più piccole rispetto alle due case le due domus precedentemente illustrate qui è un particolare del giardino ma che comunque questa degli amorini dorati e quella dei vetti poi che denunciano una certa comunque una grande ricchezza nel apparato defigurativo qui vediamo il larario di cui abbiamo parlato casa dei vetti vedete molto piccola questi erano dei liberti arricchiti molto arricchiti che pur una casa di dimensioni relativamente modeste ostentano una grande ricchezza nella decorazione parietale qui vediamo decorazioni di candelabri eracle che cattura i serpenti uccide i serpenti sotto l'occhio di giove rappresentato dall'aquila e infine al di fuori della struttura muraria solo per citarla la villa dei misteri all'interno delle mura poche sono anzi non c'è testimonianza di ville a Copompe di ricche domus sì ma di ville no all'uscita delle mura si insedia questa casa questa villa ricchissima particolarmente interessante per tutta la serie di pitture parietali che raccontano una iniziazione di una fanciulla a questi misteri non chiari veramente come lettura proprio perché appunto iniziazione misterica e quindi non chiara al di fuori cominciano le necropoli fuori Porto Ercolano prima la villa poi le necropoli che si susseguono ininterrottamente per un lungo percorso ed ora le ultime parole per parlare del progetto Pompei progetto Pompei che nasce nell'ultimo decennio dopo finanziato dalla comunità europea per la manutenzione conservazione restauro delle antichità pompeiane nell'ambito di questo progetto affiancato questo progetto è un laboratorio di analisi applicate infatti negli ultimi tempi negli ultimi tempi accanto alle metodiche tradizionali di scavo si affiancano nuove o vengono in supporto nuove tecniche come la paleobotanica la paleogeologia la paleozootecnia tecniche che permettono di ricostruire con una dovizia di particolari i resti le emergenze che provengono dagli scavi e quindi con la paleobotanica lo studio di semi per poter ricostruire di semi originali per poter ricostruire poi giardini impianti di giardini paleozoologia naturalmente ricostruire appunto la zoologia gli animali o i resti di animali i resti di impronte di animali che provengono appunto dagli scavi oltre a queste tecniche anche ci viene in supporto anche la realtà virtuale la realtà aumentata nel senso che permette a chi non è addetto ai lavori di poter idealmente ricostruire quello che era il contesto antico partendo da una realtà oggettiva ora è sicuramente un valido sussidio qualora però venga applicato in maniera filologica cioè applicando questo sussidio ad una realtà esistente molto spesso oggi purtroppo si assiste a delle realtà virtuali ricostruite ricostruite senza il supporto del dato oggettivo al che diventa fuorviante mentre è sicuramente estremamente utile per poter avvicinare il grande pubblico al quale generalmente una pietra un capitello o un rudere possono suscitare sicuramente un sentimento romantico ma naturalmente non possono far capire quello che quel rudere quel capitello quella colonna in antico potevano essere quindi anche la realtà virtuale diciamo può essere appunto veramente utile però utilizzata in questa maniera tra le ultime scoperte lungo via del Vesuvio che quindi nella quinta regio sono stati effettuati negli ultimi anni dei lavori di consolidamento dei fronti dello scavo e nel corso di questi lavori sono venute alla luce delle case delle nuove strutture di cui particolarmente interessante è questa con la rappresentazione del mosaico di Leda ma oltre a questa anche un'altra casa con la rappresentazione del mosaico di Orione queste sono le strutture più significative ma insieme a queste strutture sono stati ritrovati anche altri corpi di persone che fuggivano dall'eruzione sono stati trovati i resti di un cavallo legato in una stella ma ancora più interessante è la scoperta di un piccolo graffito a carboncino che in un certo tempo sposterebbe la data dell'eruzione al 24 agosto al 24 ottobre dello stesso anno infatti tradizionalmente l'eruzione del veduvio viene datata al 24 agosto del 79 d.C. in base alle testimonianze letterarie soprattutto ma in base a questa scoperta e a questa scoperta la data verrebbe spostata appunto di qualche mese al 24 ottobre come dichiara appunto quella epigrafe questa data peraltro verrebbe confermata dal ritrovamento nel terreno appunto di semi di vegetazioni più plausibili per un periodo autunnale piuttosto che per un periodo estivo e questa è appunto è una delle scoperte appunto più recenti emerse dagli interventi degli ultimi anni degli ultimi anni interventi che appunto ripeto sono stati fatti in seguito ai fondi provenienti dall'Europa per questo progetto europeo e sono nati anche dei laboratori di analisi comparata di scienze comparate per lo studio di tutti i materiali provenienti dallo scavo questa è una breve panoramica sui complessi monumentali più interessanti della città di Pompei panoramica scelta proprio in previsione come dicevo all'inizio di una visita agli scavi della città altro discorso più completo dovrebbe essere quello sulle pitture potrebbe essere quello sulle pitture e sui mosaici per la maggior parte presenti staccati nel Museo Nazionale di Napoli ma richiederebbero un altro tipo di conversazione ringrazio per l'ascolto e auguro a tutti buon proseguimento per l'ascolto e auguro per l'ascolto per l'ascolto per l'ascolto